guerra in jim capitolo 28 ideyoshi fa uccidere il nipote e rompe i negoziati la delegazione ming con l'ambasciatore li zong zeng e il vice ambasciatore yang fang zeng arrivò dunque a seul nel maggio del 1595 e lì si fermò rifiutandosi di proseguire oltre dato che era stata informata che vi erano ancora molte truppe giapponesi sul suolo coreano mentre gli accordi prevedevano che queste dovessero ritirarsi completamente addirittura non potendo restare nemmeno a tsushima quando la rimostranza degli inviati imperiali questa volta veri raggiunsero con ishi egli decise di rimandare una parte delle sue truppe in giappone dagli accampamenti periferici di un chong chong bong po so jim po e dall'isola gheoje le truppe rimaste in corea erano concentrate nei dintorni di busan ciò non soddisfece in pieno la delegazione ming perciò solo il vice yang si recò fino a busan mentre l'ambasciatore li restava a seul con ishi svuotò altri due accampamenti a kim ai e a dong nae spostando le truppe che vi risiedevano a busan affermò quindi di non poter fare di più e che solo quando lì zong zeng avesse raggiunto busan i giapponesi avrebbero addempiuto la ritirata completa che era stata negoziata aggiunse inoltre che se tutti i soldati fossero stati rispediti in giappone non ci sarebbe stato nessuno ad accogliere lì a busan e ascoltarlo fino in giappone dopo un mese di accese discussioni lì infine riprese il suo viaggio verso busan ma al suo arrivo in città nell'ottobre del 1595 verificò che non vi era stata come era stato l'auto fatto credere nessuna ritirata completa e perciò si rifiutò di partire per il giappone a questo punto con ishi yukinaga era in difficoltà perché molti degli ettari dei mio non avrebbero mai accettato di ritirarsi senza un ordine diretto di dei oshi e così fu costretto a salpare verso la madre patria nel febbraio del 1596 per parlare direttamente con lui accompagnato da shen weijing ufficiosamente incaricato di preparare il benvenuto per indignitare i ming mentre con ishi era assente kato fece la sua mossa mandando dal suo campo a usan un messaggio alla delegazione ming che si trovava a busan nel quale affermava che con ishi li stava prendendo in giro facendogli credere che ide yoshi volesse diventare un re vassallo dell'imperatore cinese assicurando loro che la loro missione avrebbe avuto come unico effetto quello di fare infugliare dei yoshi e di finire decapitati tale prospettiva unitamente al fatto di essere confinati in un accampamento giapponese fece il suo effetto e in maggio nel cuore della notte li zong zeng fuggì di nascosto da busan con i soli vestiti che aveva addosso dirigendosi alla svelta verso nord giugendo dopo molti giorni di duro cammino attraverso strade secondarie e di montagna alla città di gyeongju i giapponesi assegnati al compito di svegliarlo il mattino seguente scoprendo che era fuggito lo cercarono ovunque ma senza risultato dopo essere arrivato in pessime condizioni a gyeongsan li zong zeng proseguì fino a seul e finì il suo viaggio in una cella di una prigione di pechino la notizia colse con ishi nel suo viaggio di ritorno verso la corea lasciandolo spiazzato con ishi spede subito una lettera a fushimi informando ide yoshi di quanto era accaduto e ide yoshi diede dunque ordine a kato di tornare in giappone kato partirà all'inizio del giugno 1596 e spenderà il mese successivo a kyoto in attesa che ide yoshi decida del suo destino fortunatamente per con ishi il vice ambasciatore yang fang zeng aveva preso il controllo della situazione calmando i giapponesi e mostrando che il suo superiore era fuggito abbandonando il suo sigillo e assumendo dunque la guida della delegazione aveva anche mandato un dispaccio a pechino per ottenere l'investitura ufficiale ad ambasciatore e promuovere shen weijing a vice ambasciatore avere una nuova patente di investitura e dei nuovi abiti reali kunishi yukinaga ritornò con la notizia che ide yoshi aspettava la delegazione imperiale con ansia e che altre truppe sarebbero state rispedite in giappone in segno di buona fede lasciando solo una piccola guarnigione a busan quindi il 10 luglio 1596 gli inviati imperiali yang e shen assieme alla delegazione di circa 300 cinesi salparrono verso il giappone con ishi non aveva ancora concluso le sue mosse e ritornato a busan insistette con la corte reale a seul perché un inviato coreano accompagnasse la delegazione ming in giappone il suo scopo era di far credere ai da yoshi che i coreani si erano sottomessi a lui quanto i cinesi e li porgessero le loro scuse per averlo provocato ma chiaramente presentò la sua richiesta sotto un'altra luce spiegando che se non vi fosse stato anche un inviato coreano la pace si sarebbe conclusa solo tra cina e giappone e ciò avrebbe potuto comportare futuri problemi per la corea rea seon joe e la sua corte non avevano alcuna fiducia nel presunto accordo di pace dei da yoshi e denunciarono la sua lettera di sottomissione come un falso fabbricato da kunishi yukinaga e shen weijing come in effetti era tuttavia proprio shen weijing mandò sua nipote da nagoya fino a seul per sollecitare che la corte coreana inviasse un delegato ufficiale con l'appoggio anche di un prasciatore yang e se gli inviati ufficiali dell'imperatore guan li lo chiedevano i coreani non potevano rifiutarsi all'inizio la corte pensò di mandare un ufficiale militare di basso rango ma poi se temette con una persona non abbastanza istruita potesse fare qualcosa che mettesse in imbarazzo la corte coreana e si decise così di inviare un funzionario civile capace e ben educato ma di rango non troppo alto la scelta ricadde su wang singh un ispettore governativo di 36 anni della provincia di ceola e ad accompagnarlo sarebbe stato pak hong jean e la lettera loro fidata non conteneva alcun riferimento alla sottomissione né tanto meno delle scuse la delegazione coreana salpò per il giappone circa due mesi dopo quella ming che raggiunse sakai il porto di osaka e kyoto e da lì procedettero poi tutti insieme fino al palazzo di fushimi wang singh 1560 1617 morte a 57 anni nel 1596 come detto a 36 anni si era piazzato primo agli esami reali del 1588 quando aveva 28 anni sembra strano che nelle oltre 50 lettere di dei osci risalenti a quel periodo non vi sia alcuna treccia di questi eventi molti studiosi si interrono su di ciò e speculano sul fatto che forse i dei osci aveva capito abbastanza bene cosa stava succedendo comprese le manovre di kunishi yukinaga e shen wijing ma probabilmente scelse di stare al gioco per salvare la faccia e in qualche modo giustificare quella lunga e costosa guerra dal progetto iniziale di un modesto ritiro il palazzo di fushimi costruito su un versante del monte momoyama era diventato un grandioso e sfarzoso castello la cui costruzione per la fine del 1593 impegnava oltre 250 mila ruovatori intanto i dei osci si dedicava allo studio del teatro no che aveva iniziato a nagoya con sempre maggiore impegno chiamando esperti dalle maggiori scuole per farli da mentori per la sua prima performance pubblica scelse di interpretare l'opera yumi ya wata nella quale si celebra la pacificazione dell'antico giappone e la leggendaria conquista della corea all'inizio del 1594 i dei osci ordinò che venisse scritta una serie di nuove opere no che celebrassero i momenti chiami della sua vita incaricando di ciò il suo servitore omura yuko sembra che questi abbia scritto ben dieci opere no per i dei osci delle quali ne sopravvivono solo cinque ovvero il pellegrinaggio a yoshino il pellegrinaggio al monte koya la vittoria su akechi la vittoria su shibata katsuya e la vittoria su ojo ujimasa i dei osci interpretò la prima di queste opere a osaka nell'aprile del 1594 per ide zugo suo nipote e attuale taiko ma poi questo non rispettò anche ad altri che dai mio e le loro famiglie e fino anche all'imperatore go yosei stando al padre gesuita louis fra la recitazione e la danza di de yoshi mancavano di grazia ed eleganza louis fra 1532 7 luglio 1597 nato a lisbona e ben introdotto alla corte portoghese nel 1548 a 16 anni si unì ai gesuiti e raggiunse goa in india per studiare al collegio di san paolo divenendo prete e confessore nel 1561 a 29 anni nel 1562 partì per il giappone con giovanni battista de monte e dopo mesi a macau raggiunse il giappone arrivando fino a kioto nel 1563 e facendo amicizia con ashikaga yoshiteru 1536 1565 morte a 29 anni all'epoca aveva 27 anni che era lo shogun di allora sebbene privo di potere e nel 1569 conobbe oda nobunaga 1534 1582 che all'epoca aveva 35 anni lavorando ad alcuni suoi scritti proprio nel castello di gifu nel 1595 il figlio di de yoshi o presunto tale e della sua concubina yodogimi aveva circa due anni e sembra che iniziassero a circolare storie poco piacevoli su suo nipote e futuro erede il zugo e sulla sua passione per l'uccidere che le aveva fatto guadagnare il soprannome di reggente assassino si dice che gli piacesse camminare per le campagne con il suo moschetto e uccidere senza previso i contadini occupati nel lavoro dei campi oppure che prendesse a bersaglio con il suo arco i viandanti sempre gesuita luis fua afferma che una volta si sostituì al boia per testare le sue capacità con la spada e che scortasse le donne incinta per vedere cosa succedeva durante la gravidanza soprattutto l'ultima affermazione mi fa pensare alle molte storie legate ai potenti invise alle autorità papali come ad esempio federico secondo e credo non sarebbe affatto strano se queste voci fossero state fabbricate o diffuse ad arte per giustificare l'uccisione di il zugo ormai è divenuto scomodo ai dei joshi tra l'altro non era affatto insolito che un samurai provasse la sua nuova spada o la sua tecnica su un condannato a morte il zugo che tentò di resistere all'inevitabile senza successo nell'agosto del 1595 fu privato del suo titolo e spedito al monastero del monte koia nella provincia di chi pochi giorni dopo gli giunse una lettera di suo zio i dei joshi che gli ordinava di fare seppuku il de zugo obbedì e molti suoi servitori si suiciderano con lui la sua testa venne spedita a kioto come prova i dei joshi dette anche ordine che le moglie e i figli di de zugo fossero uccisi e lui sproa parla di aver assistito personalmente all'uccisione di 31 donne e tre bambini il più grande dei quali aveva solo cinque anni queste vittime innocenti furono messi su dei carri che sfilarono per kioto in modo che tutti potessero vederli portate sul luogo dell'esecuzione e decapitati uno alla volta prima i bambini e poi le donne in ordine di rango i loro corpi furono tumulati in una fossa comune dove venne posta l'iscrizione tomba dei traditori nei mesi seguenti i dei joshi fecerà del suolo il palazzo di de zugo lo giura kutai e chiamò più volte i suoi da mio a giurare fedeltà a suo figlio i dei jori toyotomi i de zugo 1568 1595 morte a 27 anni all'epoca dell'inizio della guerra in jim aveva 24 anni era il figlio della sorella maggiore di ida yoshi tomo con miyoshi kazumichi in seguito adottato da miyoshi yoshifusa e inizialmente si chiamava miyoshi nobu yoshi dopo la morte di odano bunaga gli venne affidato un feudo di 400.000 koku nella provincia di omi durante la battaglia di shizugatake del 1583 difese il forte oi waiyama e nel 1584 si scontrò con le forze di ie yasu alla battaglia di nagakute dove subirà pesanti partite e si salverà la vita a fatica ma perderà il suocero ikeda tuneoki e mori nagayoshi partecipò anche all'invasione del shikoku nel 1585 e alla sede di odawara del 1590 praticava lo shudo ovvero aveva rapporti sessuali con altri giovani uomini detti wakashu tra i quali i più noti erano yamamoto tonoma yamada sanjuro e fuga bansaku nel 1590 li venne affidato il castello di kyoso provincia di uari un tempo di odano bunaga e nel 1591 dopo la morte del primo figlio di ide yoshi quest'ultimo gli passò il ruolo di kampaku e idesugu si trasferì dunque a kyoto a jurakudai diventando l'eredo e predestinato dello zio la sua moglie ufficiale era la figlia di ikeda tuneoki mentre la seconda moglie era figlia di kikutei harusue ministro della destra della corte imperiale ma tra le sue concubine figurano anche kogo no tsubone figlia di tanowa takashige e okuni figlia di hoshima shinzaemon in realtà la kogo no tsubone più nota è un personaggio dello eike monogatari tuttavia con la nascita di ide yori nel 1593 i rapporti tra zio e nipote iniziarono a deteriorarsi nel 1595 gli venne primo ordinato di ritirarsi sul monte koya e poi tramite fukushima masanori di fare seppuku con molti dei suoi osservatori che si suicidarono con lui nella sala del saice del seiganji a falli da secondo fu sasabe shigemasa non contento ide yoshi fece uccidere anche le sue concubine e i suoi figli a sanjogawara in tutto 39 tra donne moglie e concubine e persino cameriere e bambini quattro figli maschi e una figlia femmina dalle stragi allenò le simpatie del popolo e degli altri da mio verso ide yoshi in particolare egli si rifiutò persino di graziare koma ime la figlia di mugami yoshiaki allora solo 15 anni giunta a kyoto per diventare concubina di de tsugu ma che non aveva nemmeno mai incontrato si salvò invece waka gozen sorella di ikeda terumasa si salvarono anche alcune delle figlie di de tsugu kiku ime di appena un mese che venne dotata da goto noriyoshi e ryusei in che divenne concubina di sanada yukimura oltre a altre due figlie che erano state date in sposa alla famiglia umeno koji su di lui circolavano voci che lo accusavano di essere un pazzo assassino ma è molto probabile che siano state immesse in giro per giustificare la sua uccisione di fatto molti dai mio si spesero per difenderlo dall'accusa di complotto e persino louis furat lo definiva una persona dell'anima gentile i de tsugu era stato addestrato all'uso della lancia da ikita kagekane e nella spada da asegawa munenobu e katayama isayasu oltre ad aver studiato tiro con l'arco e tiro con l'arco a cavallo presso le scuole e kiryu e haraki riu alle otto della sera del 30 agosto 1596 il più terribile terremoto a memoria d'uomo colpì la regione della capitale devastando kyoto e oseka il grande buddha fatto costruire il suo ordine di di yoshi fondendo parte delle armi raccolte durante la cosiddetta caccia alle spade fini in pezzi forti tsunami colpirono le coste e ai fushimi ogni edificio crollò oppure rimase danneggiato tanto seriamente da dover essere di seguito abbattuto i de yoshi riuscì a salvarsi portando tra le braccia i de yori accompagnato da yodogimi ma 400 membri della servitù finirono sepolti tra le macerie a causa di questa catastrofe kato kiyomasa riuscì a riguadagnare il favore dei de yoshi kato infatti si trovava a kyoto in attesa che i de yoshi decidesse del suo destino ma subito dopo il terremoto corse a fushimi e lì trovò i de yoshi niodogimi e i piccoli dei yori seduti su un tatame di fronte alle macerie i de yoshi fu molto colpito da questa dimostrazione di realtà e nella discussione che ne seguì kato riuscì a convincerlo che tutto ciò che aveva fatto era sempre stato nell'interesse dei de yoshi ristabilendo così il loro rapporto al momento del terremoto la delegazione cinese si trovava al porto di sakai in attesa di essere ricevuta e la calamità prolungò ulteriormente la sua attesa dato che la grande sala della dimensione di mille tatami che era stata costruita espressamente per l'occasione a fushimi era andata quasi completamente distrutta si rese necessario dunque scegliere un altro luogo adatto all'occasione e si decise di utilizzare un'ala del castello di oseka che era rimasta più o meno integra e che nei due mesi successivi venne sistemata da dovere per essere finalmente pronta a ottobre del 1596 il 22 ottobre 1596 dunque la delegazione ming capeggiata da yang fan chen e shen weijing si presentò all'udienza con i de yoshi al castello di oseka ad accompagnarli vi era anche l'inviato coreano wang sing una volta giunti al grande cancello della fortezza un messaggero si vede al loro incontro informandoli che i coreani non sarebbero stati ammessi ad entrare perché i de yoshi era indispetito dal fatto che la corte coreana non avesse mandato due principi reali e un altro ministro come era stato espressamente richiesto wang rimase perciò fuori mentre la delegazione cinese proseguì la delegazione venne portata in una grande sala e fatta accomodare di fronte a una piattaforma sulla quale stava un paramento giallo yang si trovava davanti a shen un passo dietro di lui con la patente di investitura reale e il sigilo d'oro dopo un po di tempo il paramento si aprì e ne uscì un uomo anziano che si appoggiava ad un bastone accompagnato da due assistenti vestiti di blu si trattava di toyotomi de yoshi i de yoshi chiese i suoi da mio perché gli inviati cinesi non si prostrassero di fronte a lui come era costume e con ishi yukinaga gli spiegò che essendo costori rappresentanti dell'imperatore cinese non poteva aspettarsi qualcosa del genere nel frattempo anche gli inviati cinesi si chiedevano per quale motivo i de yoshi non si prostrasse di fronte all'editto imperiale che shen weijing teneva sollevato uno degli assistenti compreso il loro pensiero si affrontò a spiegare loro che i de yoshi non aveva alcuna intenzione di mancare rispetto all'imperatore della cina ma semplicemente non riusciva a inginocarsi a causa di una dolorosa ferita al ginocchio superato dunque anche questo problema vennero consegnate la patente di investitura a re del giappone il sigillo reale la corona le vesti di seta e poi la delegazione ming si ritirò il giorno dopo si tenne un banchetto al quale i de yoshi si presentò con le vesti e la corona donateli dell'imperatore cinese accompagnato da una quarantina dei suoi daimyo vestiti di tuniche colorate sulle quali portavano un emblema dove era indicato il rango della corte imperiale cinese a loro assegnato la delegazione cinese venne fatta a sedere dal lato opposto della sala mentre di nuovo wang si e i coreani furono costretti ad aspettare fuori il banchetto procedette amabilmente e alla fine de yoshi decise di ritirarsi con alcuni dei suoi fedeli sacerdoti incluso saisho shu tai esperto della scrittura cinese per farsi tradurre i documenti inviati dall'imperatore wang li saisho o seisho shu tai 1548 1608 morte a 60 anni nel 1596 a 48 anni è l'autore di un commento a un ritratto dei toyotomi de yoshi commissionato da yaki zenshu nel 1599 e si firma roku on jota e in effetti sembra venisse chiamato saisho jota e detto anche shokoku jota e fosse un monaco delle sette rinzai proveniva da fushimi vicino a kiyoto ed era noto per la sua intelligenza e cultura tanto da essere usato sia dato i tomi de yoshi che dal suo successore politico tokugawa e yasu per stilare documenti e leggi promulgare l'educazione e regolare l'amministrazione dei templi inizialmente aveva praticato lo zen sotto ninja shugyo 1483 1584 ma poi andò a vivere da solo nel tempio in rovina shokoku jii ricostruendo il tempio e venendo assegnato al ruolo di roku on suroku una figura creata nel 1336 dall'alora shogun ashikaga takauji che unificò le scuole zen e la sette rinzai che si occupava di registrare i monaci e nominare i capi e le gerarchie dei templi di tutto giappone e tale figura divenne l'equivamente dello shogun nel capo religioso nel 1615 il bakufu tokugawa cercò di eliminarlo con un apposito decreto nel tentativo di estendere il suo diretto controllo anche in campo religioso ma dovette ristabilirla nel 1619 nominando in shin su den 1569 1633 nel 1605 juta e pubblicò il manuale di divinazione chiamato shueki konishi aveva di certo a lungo temuto questo momento e aveva preventivamente chiesto a saisho di ammorbidire tutto ciò che avrebbe potuto offendergli deyoshi saisho a consentire la richiesta di konishi ma quando si mise a tradurre fu molto onesto toyotomi deyoshi tu hai unificato la tua isola e hai compreso come riverire la cina hai mandato un inviato a ovest per esprimere la tua ammirazione e devozione e queste sono state sinceramente apprezzate per grazia ti nominiamo re del giappone ti è stata inviata la patente imperiale e ora godi del favore dell'imperatore sei dunque istruito ad adempire i nostri ordini e ad essere pronto a compiere pienamente i tuoi doveri verso il nostro trono come un leale suddito nonché a conformarti con reverenza ai disdeli dell'imperatore e a mantenere la tua eterna esistenza seguendo la guida imperiale e felicemente obbedendo ai comandi imperiali il sacerdote prese dunque il secondo documento e iniziò a tradurlo questo si apriva con un rimprovole dei yoshi per aver invaso la corea una nazione che si era sempre dimostrata un buon vassallo della cina e sebbene i ming capissero che lo aveva fatto perché desiderava ardentemente di venire a sua volta al loro vassallo aveva poi capito il suo errore con serio rimorso e aveva così giustamente ritirato le sue truppe e reverentemente mandato una petizione alla corte che ora gli concedeva di essere il suo vassallo ma con alcune restezioni ovvero uno ritirare tutte le sue truppe due promettere di non invadere mai più la corea tre lui e i suoi successori non avrebbero mai cercato di ottenere privilegi commerciali con la cina se avesse cercato di mandare navi non invitate la marina cinese le avrebbe trattate come navi pirate e distrutte infuriato i dei yoshi si tosse gli abiti cinesi e gettò del suolo la corona lasciandosi andare a un accesso di rabbia stando ad alcuni racconti inizialmente i dei yoshi era deciso a fare uccidere sia la delegazione cinese che quella coreana ma sembra che i monaci presenti siano riusciti a calmarlo e a blandirlo affermando che la cina era la culla e il faro della civiltà e che quello era il suo modo tradizionale di riconoscere il potere dei yoshi sebbene non fosse più fuori di sé il taiko fece sapere agli emissari stranieri che dovevano andarsene subito dal giappone e che non avrebbe affidato loro alcuna risposta per pechino yang fang chen e wanzi non se lo fecero ripetere due volte raccolsero le loro delegazioni e partirono subito per nagoya nel kyushu dove dovettero aspettare fino al novembre del 1596 affinché il tempo gli consentisse di salpare verso busan in quest'arco di tempo i dei yoshi mandò un messaggero alla delegazione cinese con dei doni e una lettera nella quale spiegava che non aveva alcun rancore verso pechino ma che la corte coreana lo aveva insultato mandando un funzionario di basso rango e che per punirli avrebbe di nuovo mandato le sue truppe nella penisola intanto wanzi era disperato perché non era riuscito a consegnare la lettera affidateli ai dei yoshi e si sfogò di ciò a cuore aperto con yang fang chen dicendogli che preferiva morire che tornare in corea senza aver compiuto la sua missione yang cercò di calmarlo e convincerlo dicendo che il suo re avrebbe capito e che se i dei yoshi si era rifiutato di accettare la lettera non era colpa la sua arrivando a sottolineare che in fondo lui stesso non aveva avuto più successo nella sua missione dato che dei yoshi non aveva mostrato alcun segno di sottomissione all'imperatore wanzi ora l'ira di dei yoshi era pronto ad abbattersi sui demi o responsabili per averlo messo in imbarazza con ishi era chiaramente il primo della lista ma si salvò grazie all'intercessione di alcuni dei membri della cerchia più vicina ai dei yoshi compresa la sua concubina e madre di suo figlio yodogimi che li fece notare che se avesse ordinato con ishi di uccidersi avrebbe dovuto lo stesso modo punire anche i suoi tre rappresentanti in corea ovvero otani yoshitsugu mashita nagamori e ishida mitsunari alla fine i dei yoshi si limitò a rimuovere otani mashita e ishida dei loro ruoli e ordinare a con ishi di tornare in corea con le sue truppe come egli stesso prevedeva tornato a seul wanzi venne pesantemente criticato per aver fallito la sua missione e il retrocesso di rango come punizione tuttavia ciò confermava l'opinione che i coreani avevano dei dei yoshi ovvero di un barbaro che veniva avviato dei negoziati con i cinesi a un solo scopo di ingannarli e di prepararsi a un secondo attacco qualcuno arrivò anche ad ipotizzare che il trattamento irrispettoso ricevuto dagli inviati cinese facesse parte di un piano dei dei yoshi per far arrabbiare i ming e portarli a far salpare subito una flotta verso il giappone a cui i giapponesi avrebbero teso un agguato per distruggerla lo stesso re shion joe la pensava così in fondo erano stati i cinesi a far l'impressione per mandare un inviato in giappone e non c'era da stupirsi che la sua missione fosse fallita quindi convocò wanzi lo lo ringrazio per i suoi sforzi e lo ricompensò con dei doni nel gennaio del 1597 yang fang chen e shen weijing tornati a pechino cercarono di far passare la loro missione come un grande successo raccontando che toyotomi dei yoshi aveva ricevuto con umiltà e reverenza l'investitura al re del giappone purtroppo le loro bugie non restero a lungo dato che non avevano riportato alcuna lettera ufficiale di dei yoshi e si scoprì che i doni riportati erano stati comprati dalle stessi inviati e a ciò si aggiunse anche una nuova richiesta di re shion joe di avere aiuto militare per resistere alla seconda paventata invasione giapponese il fallimento della missione venne visto come un insulto senza precedenti e l'unica possibile risposta era raccogliere un nuovo esercito per ributtare in mare i giapponesi yang fang chen confessò tutto e venne immediatamente rimosso dal suo ufficio mentre shen weijing continuò a sostenere fino all'ultimo che si trattava solo di un frattentimento e che si poteva ripristinare la pace perciò viaggiò fino in corea con qualche scusa solo per tentare la prima occasione di defezionare verso i giapponesi ma venne arrestato e rispedito a pechino dove finì giustiziato per tradimento sua moglie e i suoi figli vennero invece venduti come schiavi per quanto riguarda il ministro della guerra shi xin che era stato il più grande sostenitore della pace fin dal 1593 si pensò inizialmente di mandarlo in esilio ma walli stavolta decise di calcare la mano e venne perciò condannato a morte anche se non sarà mai giustiziato perché morirà di fame nella cella dove era detenuto la sua famiglia e i suoi parenti furono invece esiliati in province remote dell'impero il 20 ottobre 1596 il galeuno spagnolo san felipe in viaggio da manina verso a cabulco con un carico di beni asiatici stimati in circa un milione e mezzo di peso d'argento a caso del maltempo venne trascinato fino all'isola di shikoku le autorità locali si dimostrarono amichevoli ma si rifiutarono di lasciar riparare la nave e permettere agli spagnoli di ripartire senza il consenso del traico il peso d'argento era anche detto real da ocio si iniziava a coniare nell'impero spagnolo a partire dalla riforma monetaria del 1497 e pesava circa 27,5 grammi con un titolo di purezza allo 0,995 corrispondente a una quantità di argento puro per moneta pari a 25,56 grammi facendo due calcoli al giorno d'oggi la somma di un milione e mezzo di peso equivalrebbe a circa 38.340 kg di argento che moltiplicati per 713 euro al chilo fanno circa 27.336.000 euro ma ricordo di nuovo che all'epoca l'argento valeva molto di più gli spagnoli mandarono dunque dei rappresentanti a chioto con dei doni per appellarsi ai deyoshi ma quando vi arrivarono pochi giorni dopo la partenza della delegazione ming egli si rifiutò di vederli il padre francescano mandato chioto da manila dal governatore gomez perstas marinas si diede da fare per aiutarli ma senza successo i deyoshi probabilmente intendeva requisire il carico della nave per ottenere i fondi per ricostruire il suo castello di fushimi e per la sua seconda invasione della corea così mandò maishita nagamori nella shikoku per sequestrare il carico e far imprigionare la ciurma maishita nagamori 1545 1615 era un servitore dei deyoshi fin dai tempi in cui quest'ultimo combatteva per oda nobunaga venne nominato go bugio ovvero uno dei cinque capi della giustizia come anche otani e partecipò a entrambe le spedizioni in corea era signore del castello di koryama con entrate pari a 200.000 coco dopo la morte di deyoshi si schierò con ishida ma non partecipò alla battaglia di sekigahara rimanendo in attivo a osaka dopo la battaglia perse i suoi terreni ma venne affidato come servitore a koryuki kiyonaga vassallo di yasu durante la sede di onsaka del 1614 1615 suo figlio morizugu si unirà alle truppe dei toyotomi e li verrà perciò ordinato di fare seppuku la parete del carico sarà un duro colpo per gli spagnoli di manila la cui sopravvivenza era legata al viaggio annuale del galeone che vendeva oggetti preziosi come seta ceramiche e spezie di messico l'8 dicembre 1596 la residenza a kiyoto dei francescani spagnoli venne circondata e se i preti e diversi giapponesi convertiti al cattolicesimo furono arrestati e un mese dopo condannati a morte in base all'edito dei deyoshi che proibiva il cristianesimo si è a lungo speculato su perché i deyoshi si sia comportato in questo modo e qualcuno afferma che ciò sia dovuto il fatto che quando un maschita nagamori giunse nello shikoku per prendere possesso del carico della san felipe il pilota della nave gli abbia mostrato una mappa con i possedimenti della corona spagnola forse allo scopo di impressionarlo e quando un maschita gli chiese come come aveva fatto la spagna a conquistare tante terre costui gli abbia risposto che prima venivano mandati i preti per convertire la gente per poi inviare i soldati a conquistarla essendo stato informato i deyoshi inizialmente pensato di far uccidere chiunque si professasse cristiano ma resse conto che ciò non era fattibile si accontentò di colpire i nuovi arrivati a chioto ovvero i francescani ma salvando i gesuiti che erano essenziali come intermediari con macau i 26 arrestati 6 padri francescani di 17 convertiti locali e 3 gesuiti arrestati per errore subirono prima in taglio del naso e delle orecchie quindi furono portati su un carro trenato dei boi lungo la strada di chioto osaka e sakai esposti alla folla poi vennero spediti a nagasaki dove il 5 obraio 1597 vennero inchiodati su delle croci con dei ferie che cesevano loro la gola i polsi e le caviglie e torturati a morte i loro cadaveri rimarranno appesi per molte settimane fino a che rimasero solo le ossa che furono trafugate da alcuni cristiani del luogo e preservate come reliquie la notizia del loro martirio raggiunse manila nel maggio del 1597 quando la ciurma della san felipe che era stata rilasciata riuscì a tornare a casa il nuovo governatore delle filippine francesco tello mandò un nuovo masciatore in giappone con una lettera in cui esprimeva la sua rabbia per ciò che era avvenuto e chiedeva che gli venisse restituito il carico della san felipe inviandoli però anche dei doni per accompagnare la sua richiesta quali abiti spade ornamenti d'oro e argento e persino un elefante regalo del re della tailandia i dei osci ricevete l'ambasciata con inusuale amichevolezza e fu davvero deliziato dal dono dell'elefante il primo che si fosse mai visto in giappone ma non concesse nulla all'ambasciatore affermando che i francescani erano andati contro l'editto che proibiva il cristianesimo portando disturbo nei templi shinto e rovinando la tranquillità della nazione quanto al carico della san felipe i dei osci affermò che sarebbe stato lieto di restituirlo ma ciò era impossibile dato che era stato completamente disperso i dei osci quindi si preparava alla seconda visione della corea ma con un obiettivo molto ridimensionato rispetto alla prima che prevedeva la conquista di tutta l'asia stavolta si puntava a conquistare solo la metà meridionale della penisola coreana i giapponesi avevano compreso che la marina da guerra coreana era una seria minaccia e in fondo era stata la causa del fallimento della prima invasione avendo reso impossibile il trasporto di truppe e di rifornimenti via mare si decise dunque di affrontare il problema in due modi 1 mettere insieme una flotta più forte di quella del 1592 2 cercare di endebulire la flotta coreana prima ancora che iniziassero l'ostilità neutralizzando il suo omiraglio supremo gli sun si grazie 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 grazie